Ah, devo andare ad Adventure Bay, così Travis il viaggiatore vedrà questo vero finto mostro e mi seguirà fino a Foggy Bottom. Aiuto! Oh, guardate, che strana e misteriosa creatura è mai quella. Ah, Squatch, ah, ah, Squatch. Meglio chiamare la Poopatrol. Forza, Marshall, salviamo quel Humsquatch. Sembra così spaventato. Ecco perché dovrai essere molto gentile quando lo raggiungerai per portarlo giù. Ricevuto, Ryder. Scala! Tieni duro, grosso amico peloso, ti tiro giù. Era ora che arrivassero quegli sciocchi cuccioli, cioè... Adesso cerca di farlo voltare e di farlo scendere da lì. Il mio Humsquatch è arrugginito. Invece no, parlo a Squatchese. Ryder, l'Humsquatch è impigliato in una roccia. Rispondi, Sky. Devi venire a salvare l'Humsquatch. Ricevuto, Ryder. Niente paura, signor Humsquatch. Arriva nei rinforzi. Fermi tutti. Quello non è un animale. Cioè, da voglio dire... Il sindaco Handinger. Il mio piano del mostro finto non ha funzionato. Se solo ci fosse un vero mostro a Foggy Bottom. Gattini, siete stati voi? Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon. Ryder, finalmente siete qui. Non riusciamo più a trovare le caprette. Le troveremo noi e ripareremo anche quella recinzione. Giusto, Rocky? Certo. Cacciavite. La recinzione è a posto adesso. Andiamo. Pronto, sindaco Goodway. Che succede? Delle caprette mi hanno appena mangiato l'asciugamano da spiaggia. Arriviamo subito. Cuccioli, le caprette sono in spiaggia. Dobbiamo radunarle tutte. Subito. Qui, piccole caprette. Le ho radunate sulla zattera. Ottimo. Ma chi guida la zattera? L'alta marea l'ha portata via. Purtroppo non era il momento giusto. Il sindaco Goodway dice che le caprette sono qui. Ma dove? Hanno appena preso il largo. Zuma, ci serve un salvataggio marino. Tuffiamoci dentro. Arrivano i soccorsi, caprette. Oh, no! Ryder, la zattera si è rotta e le caprette vanno alla deriva. Che cosa faccio? Dobbiamo trovare il modo di rimettere insieme quei tronchi. Oh, facendole correre. Come a lezione di yoga. Correte, caprette, correte! Fantastica corsa, caprette! Continuate così e vi spingo verso riva. Ah, le mie piccoline grazie, Paw Patrol. Nessun problema. Quando una capretta da yoga scappa, siamo a disposizione. È ora di riportare queste caprette stanchi a casa. Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon. Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore. Grazie per la velocità, cuccioli. Ho una buona notizia. Cicaletta ha fatto un uovo. Incredibile! Ma c'è un problema. L'uovo è rotolato via e si dirige in città. Sono nel panico! Dobbiamo prenderlo prima che si rompa. Perciò avrò bisogno di... Rocky! Avremo bisogno della tua pinza per recuperare e portare in salvo l'uovo di Cicaletta. Semaforo verde, signore! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Questo non dovrebbe essere qui. Sarà meglio portarlo al nonno. Salve, sindaco Goodway! Novità! Tomo proprio di no... Oh, dove? Dove sarà l'uovo della mia gallinella? Salve, sindaco Goodway! Salve, Paw Patrol! Scommetto che è quello! Rocky! Pizza! Lo prendo io! Oh, no! Seguite quel gabbiano! Oh, no! Andiamo! Il mio nipotino rimbalza proprio bene! Prendilo, Rocky! Pizza! Ciao, Ryder! Come va? Ascolta, Danny! Hai un passeggero a bordo con te! Ah, sì! Lo vedo! Rubble! Mi servirebbe una piattaforma per far atterrare l'uovo! So esattamente cosa fare! Scendi piano, Danny X, il temerario! Salve, sindaco Goodway! Oh, no! Non posso guardare! Abbiamo evitato la frittata! Sì! Grazie, Rubble! Cicaletta era così preoccupata! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! La pista da ballo fluttuante del signor Wignett è salita troppo! Aiuto! Dato che ci sono molti ballerini sulla pista da ballo, gli altri cuccioli rimangano a disposizione! Siamo pronti! Sì, signore! Sì! Certo! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Dobbiamo tenere la pista da ballo in equilibrio, gente! Esistente! Ci pensiamo o no? Tranquillo, Luke! Ho tutto sotto controllo da qui! Ecco, diciamo, non proprio tutto! Dato che di sicuro ho vinto io, prenderò il trofeo della gara adesso! Mi spiace, ma l'assegnazione del trofeo avverrà soltanto alla fine del concerto, sindaco! Beh, tu hai le tue priorità, ma io ho le mie! Credo di averlo aggiustato! Wow, Ryder, ma che succede? Il telecomando si è rotto e ha riattivato i propulsori! Ora ci dirigiamo verso l'acqua! Robocucciolo, vola sulla pista da ballo e srotola i cavi di acciaio! Cuccioli, attaccate i ganci alla piattaforma! Rocky, spegni i motori! Ricevuto! Motori spenti! E il trofeo va a... La Paw Patrol! Hanno mostrato i passi migliori dentro e fuori dalla pista da ballo! Grazie per averci salvati! Nessun problema! Ogni volta che la pista da ballo vuole ballare il rock'n'roll, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Benvenuti a questa puntata di Il rodeo rocambolesco! Tutti voi conoscete già il mio cavallino Rusty! Saluta il pubblico, Rusty! Ci siamo! La prima gara è la corsa negli stivali giganti! I due concorrenti devono restare in sella al loro cavallo più a lungo possibile! Quello che riuscirà a resistere più a lungo sarà il campione del rodeo rocambolesco! Buona fortuna, sindaco! Fortuna? Non mi serve la fortuna! Non quando con me la colla! Attento, gattino! Quella colla sta colando dappertutto! Cosa? Aspetta! Non ha ancora dato il via! Sindaco, scenda subito! Non posso! Ci sono incollato sopra! Rusty, sta attento! Non posso andarmene! Non ho ancora vinto! Tranquilla, Cowgirl Beryl! Aggiusteremo tutto e salveremo Rusty in un battibaleno! Come facciamo a salvare Rusty e il sindaco Handinger? Ci basterà qualche zampa in più! Zuma, devi prendere un cavallo! Tuffiamoci dentro! Salva gente! Forza, bello! Ora si torna a casa! E che ne sarà di me? Chase, attiva lo sparapalle! Uh, sparapalle! Se colpisci il motore con la calamita, il cavallo si fermerà! Adesso! Per caso ho vinto! Grazie, amici! Avete salvato lo show e anche il mio cavallo! Oh, un gioco da ragazzi! Ogni volta che sei in un guaio rocambolesco, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Cavaliari del soccorso, siamo pronti all'azione! Serrider, signore! Chloe e Sparks hanno distrutto il ponte e ora la carrozza reale non può tornare al castello! Quindi per questa missione avrò bisogno di... Rocky! Semaforo verde, signori! E Rubble! Serrubble come un rozzo! Avrò bisogno anche degli altri cuccioli! Io sono pronta! Andiamo! Ah, bene! Al lavoro, cavalieri del soccorso! Ci siamo! Cominciamo col riparare il ponte! Rubble come un rozzo! E tu, Rocky! Tira fuori i pezzi del ponte caduti in acqua! In arrivo! L'osso di Excalibur ti sarà mio! Non puoi proteggerlo da solo, Chase! PINZE! Ha funzionato! Ha funzionato! Chase, state tutti bene? Stiamo bene, Ryder! Principessa, Chloe all'osso di Excalibur! È lui il cavaliere reale, a meno che io non lo fermi! D'accordo, Serr Chase! Bene, PINZE! Ora posate lentamente l'osso nel secchio e... No! Ryder! L'osso era un falso! Ehi, Sparks! Vuoi giocare con me? Wow! Drago Bolas! Wow! Drago Rete! Beccato! Cavalieri del soccorso, grazie! Ci avete salvati! Ogni volta che un ponte crolla, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Danny ha scelto un brutto posto per fermarsi a pranzo, nel bel mezzo di un canyon. E così, il vento lo ha rivaltato! Almeno indossa l'imbracatura di sicurezza, ma lo dobbiamo tirare giù! Rete di sicurezza in arrivo! Ciao, Danny! Il mio nome è Danny X... Il temerario! Adesso ti aiuto a rimetterti dritto! Stai attento! Non vorrei che il mio delizioso pranzo estremo cadesse! Va bene, ma siamo qui per salvare te! Il pranzo aspetterà! Woo! Vinze! Ottimo! Ce l'abbiamo fatta! Quello è Raider! Ci sono quasi! Grazie per la rete, Chase! Grazie! Non sapevo che questa bici potesse volare! Questo video sarà un successo! Guardate come atterro con la mia bici! Oppure no? Oh oh! Danny è ancora nei guai! Cuccioli, presto! Dovete decollare tutti se vogliamo salvarlo! Rete! Ci pensiamo noi all'atterraggio? Credo che questa sia un'ottima idea! La Po-Patrol è la migliore! Che giornata, miei cari fan! E l'atterraggio di questo numero temerario è stato a cura della Po-Patrol! Grazie, Raider! Ehi! In ogni occasione temeraria, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Po-Patrol su Nickelodeon! Po-Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli! Hal, Yumi e Bettina stavano tornando a casa e sono rimasti incastrati in cima al ponte e ora non si chiude più! Chase! Userai il tuo argano per impedire al furgone di scivolare e cadere nel fiume! Marshall! Userai la tua scala per raggiungere il furgone del signor Hall! E Rocky! Serviranno i tuoi attrezzi per aggiustare il ponte! Al lavoro! Po-Patrol! Hai fatto presto, Rocky! Mi sembra anche della misura giusta! Purtroppo non hai il numero giusto di denti! Dovrebbe andare! Chase, prova a ritirare il cavo! Misura giusta e stessa dentatura! Avvitatore! Quanto ti manca, Rocky? Mi serve solo qualche minuto! Ora chiama i rinforzi! Sky, serve un salvataggio aereo per Bettina! Questo cucciolo ha imparato a volare! Chase, usa la rete per attutire l'atterraggio! Ma sta atterrando dall'altra parte del ponte! Rocky, tu occupati dell'argano, Chase! Ti porto di là con il mio veicolo! Attento, Ryder! Il ponte elevatoio è ancora aperto! Oh, rete! Nessuno in toppo! Rocky, aiuta il signor Hall a scendere tirando il cavo senza dargli troppi scossoni! Certo, Ryder! Grazie per averci fatto scendere da quel ponte, Pou Patrol! Nessun problema! In ogni occasione, noi siamo a muuuu! Disposizione! Guarda gli episodi completi di Pou Patrol su Nickelodeon! Pronto, sindaco Goodway, come va? Ryder! Danny ha appena preso il volo! Letteralmente! Due aquile l'hanno catturato! E se lo stanno portando via! Se indossa ancora il casco, forse sta trasmettendo tutto in diretta! Devo controllare! Sono uccello X il temerario e sto volando verso un'avventura epica nel cielo! Lo dobbiamo salvare! Nessun rapace è troppo grande per un cucciolo coraggioso! Questo sì che è un atterraggio estremo! Oh, ho capito! Cari fan, questi istruttori pennuti di volo estremo vogliono insegnare a uccello X il temerario a volare! Scusatemi, amici, ma non riesco a volare! Grazie per l'aiuto! Sì, ci sta riuscendo! Crede di volare, ma sta soltanto rimbalzando! Dobbiamo riuscire ad avvisarlo, ma non ci sente! Oh, ci sono! Chase, usa il drone spia per portare i walkie-talkie a Danny! Drone! Una drone con segna espressa in arrivo! Forte! Stanno piovendo walkie-talkie! Possiamo parlare dopo? Sono nel mezzo di una lezione di volo ora! Danny, resta fermo finché non veniamo a salvarti! Meglio cancellare i piani di volo! Aiuto! Coraggio, Ali! Volate! D'ora in poi il volo, lascialo a me! Grazie per il salvataggio al volo, Poe Patrol! Non c'è di che! In ogni occasione di volo estremo, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Poe Patrol su Nickelodeon! Cavalieri del soccorso, siamo pronti all'azione, signore! Sparks ha congelato l'entrata del Big Benji, intrappolando dentro la principessa e il conte! Chissà che freddo fa! Quindi, per questa missione avrò bisogno di... Rocky! Semaforo verde, signore! E Sky! Questo cucciolo cavaliere ha imparato a volare! Ah, bene! Al lavoro, cavalieri del soccorso! Attento! È molto scivoloso! Saldatore! Ryder, sono Sky! Li ho trovati! Fermo, Clo! Fermo? Forse intendevi freddo! Oh-oh! Atterraggio davvero brusco! Ma almeno ho ricevuto un benvenuto caloroso! Ciao, piccoli! Sono fuggiti, Ryder! Ma ho scoperto perché Sparks sputa ghiaccio! È per via di quei marshmallow blu! Grazie per l'informazione, Sky! Il tuo elicottero? Se la caverà! I miei nuovi amici mi stanno aiutando! Li hai proprio conquistati, Sky! Come va con la porta, Rocky? A meraviglia! Ottimo lavoro! Bravo! Siamo liberi! Ah, sono usciti! Ora torniamo al castello e scaldiamoci un po'. Il ghiaccio si è sciolto e il Big Benji è stato caricato! Adesso possiamo dire grazie, cavalieri del soccorso! Non c'è di che, vostra altezza! In ogni occasione, noi siamo... A disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Alex è bloccato sulla diga dei castori! Oh, no! E la stessa diga impedisce a un salmone di raggiungere il mare! Ma non possiamo romperla perché è la casa dei castori! Quindi per questa missione mi servirà... Sky! Prendiamo subito il volo! E il Rubble! Rubble come un raggio! Bene! Al lavoro! Paw Patrol! Guarda, Squeak! È la Paw Patrol! Sky, tira su Alex e Squeak e portali in salvo! Ricevuto, Ryder! Rubble, tu comincia pure a scavare un canale lungo il fiume... Così l'acqua e il salmone potranno passare di lì! Subito! Buh! Imbracatura! Grazie, Sky! Ci siamo! Ottimo lavoro, Sky! Come va con il canale, Rubble? Ci vorrà un po'! Guarda! Oh-oh! È senz'altro una sostanziosa squadra di salmoni! E serve che superino la staccionata di stecche! Mi dispiace, ma mi servirà più tempo per finire il canale! Non fa niente, Rubble! Nessuno si aspettava che i salmoni arrivassero così presto! Se soltanto quella diga fosse un po' più bassa, i salmoni potrebbero saltarla! O potrebbero saltare più in alto! Da questa parte per un gustoso giro di giostra, giovani salmoni! Spettacolare! Che meraviglia! Uh-oh! Sì! E questa idea del lancio dei salmoni ci tornerà utile ogni volta che ci scontreremo con un'altra costruzione dei castori! Ah! Grazie, Po-Patrol! Non c'è di che, Capitano Urbot! Ogni volta che un salmone è in difficoltà, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Po-Patrol su Nickelodeon! Po-Patrol, siamo pronti all'azione, signore! La mongolfiera di Travis, il viaggiatore, si è bucata ed è precipitato da qualche parte del Tattile! Everest, dovrai usare il tuo gatto delle nevi per setacciare la zona e trovare Travis! E Rocky, tu dovrai usare i tuoi attrezzi per riparare la mongolfiera di Travis! Semaforo verde, signore! Raider, ho trovato la mongolfiera di Travis! Ben fatto, Everest! Arriviamo subito! È senz'altro la sua! Ma dov'è Travis? Prova a cercare qualche traccia nei paraggi! Raider, ho trovato impronte di pinguino e di scarponi! Travis deve essere andato di là! Le impronte conducono in quella caverna, Travis deve essere dentro! Travis! Oh, wow! Volevo salvarla con il gatto delle nevi! Ma non posso avvicinarmi oltre, il mezzo è troppo pesante! Oh, colla! Bene, la toppa è a posto! Raider, Travis si trova in una grotta! Ma non posso avvicinarmi con il gatto delle nevi! Arrivano i rinforzi! Rubble, dovrai usare il tuo hoverboard per andare a salvare Travis! Rubble, ave un raggio! Tranquilli, pinguini, vi aiuto io a uscire! Seguitemi! Travis, va tutto bene? A Barry Loverboard si tenga forte! Certo! Ben fatto, cuccioli! Adesso è come nuova! Grazie, Rocky! Mi spiace, Travis, ma ho usato la mappa per riparare la falla! Nessun problema! Mi basterà usare i miei sensi da esploratore per trovare la strada! Dovunque io vada, è lì che mi troverò! Grazie dell'aiuto, Poe Patrol! Guarda gli episodi completi di Poe Patrol su Nickelodeon! Poe Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Allo zio Otis serve aiuto! È andato alla ricerca della miniera d'oro perduta, ma è rimasto incastrato in una trappola da qualche parte nella giungla! Oh, cipicchia! Oh no! Quindi per questa missione mi servirà... Chase! Userai il tuo drone per perlustrare la giungla! Ci pensa Chase, signore! E Tracker, serviranno i tuoi cavi e il tuo super udito per cercare lo zio Otis! Una volta trovato, userai i tuoi attrezzi per liberarlo! Sono tutto orecchi! Todo idos! Bene! Al lavoro, Poe Patrol! Lo zio Otis sarà passato di qua, ma da che parte sarà andato? Chase, lancia il drone lungo questo sentiero per cercarlo! Certamente! Woof! Drone! Tracker, tu vai da quella parte e usa il tuo super udito per localizzare lo zio Otis! Subito! Woof! Cavi! Zio Otis! Ehi là! Oh, si sta facendo tardi, presto sarà buio! Ma non fa niente, lo zio Otis ha bisogno di me! Hola! Ehi là, c'è qualcuno? Mmm, che suono strano! Zio Otis! Non immagini quanto sia felice di vederti! Resista! La tiro giù! Grazie al cielo! Moltiuso! Grazie, Poe Patrol! E scusate se vi ho causato tutti questi problemi! Non si preoccupi! Ogni volta che si perde in una miniera, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Poe Patrol su Nickelodeon! Ciao Everest, come andiamo? Ryder! Marjorie e Maynard sono intrappolati nella biblioteca mobile e scendono fuori controllo lungo la montagna! Stiamo arrivando! Nessun veicolo è troppo veloce per un cucciolo coraggioso! Chase, sorpassa quel veicolo e libera la strada! Ci è mancato poco! Ciao, Ryder! È un vero piacere vederti! Anche per me! Va lì vicino e poi lancia il rampino! Rampino! Skye, ora tocca a te! Qualcuno sta preparando il tè! Che succede? Ci stiamo muovendo! Signorina Marjorie, si infili l'imbracatura! Maynard! Penseremo noi a Maynard e ai libri! Yahoo! Grazie, Ryder! Oh no! Io chiederò altro aiuto! Rocky, Rubble, ci vediamo alla fine della strada! Ricevuto! Ryder, c'è un treno in arrivo! Skye, usa il tuo gancio per rallentare il mezzo! Presa! Autopilata! Ciao Maynard! Allacciamo le cinture! I freni non funzionano! Ora provo con il freno a mano! Ah, questa non ci voleva! Rocky, Rubble, mi serve una rampa! Ehi, scommetto che quelle travi potrebbero funzionare! Presto! Il treno è quasi arrivato! Sì, ce l'abbiamo fatta! Guarda gli episodi completi di Pou Patrol su Nickelodeon! Hi-hah! In guardia! Si salpa! Ciao, passeri! Io sono uno spaventapasseri! Tutti a bordo! Che bel costume! Forte! Ma che costume stupendo! Oh, grazie! Voglio dire... Già, proprio un bel costume! Non c'è tu, scherzetto! Nonno! Dobbiamo chiamare la Pou Patrol! Ryder! Un bambino con un costume da ragno sta prendendo tutti i dolcetti! Ci pensiamo noi! Nessun ragno è troppo spaventoso per un cucciolo coraggioso! Smettila tu! Chiunque tu sia dentro a quel brutto costume da ragno! Oh-oh! È ora di andare, gattini! Wow! Rete! No! Accidenti! Siamo bloccati! Rubble! Tu porta qui la tua gru! Devi staccare un ragno gigante da una ragnatela di marshmallow! Wow! Fortunatamente non è un ragno vero! Altrimenti sarebbe spaventosissimo! C'è un dolcetto là! Lo devo prendere! Oh-oh! I miei dolcetti! No! Grazie, Ryder! Tu e la Paw Patrol avete salvato Adventure Bay e la festa di Halloween! Non c'è problema! Quando fanno gli scherzetti, la Paw Patrol riporta i dolcetti! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Sindaco Goodway! Ryder! La chiave della città è stata rubata! Sindaco! Sindaco! Voglio denunciare un furto di torte! Hanno sbaliggiato la spiaggia! E anche il museo! Ryder, che facciamo adesso? Sindaco Goodway! Lei e gli altri testimoni potete descrivere i veicoli? Sì, sembrano i vostri veicoli! Dobbiamo scoprire cos'è successo! Nessuna chiave è troppo scomparsa per un cucciolo coraggioso! La nostra missione è identificare e fermare il sospettato! Il ladro deve usare la chiave per entrare e con un veicolo porta via il bottino! Quindi chiunque abbia la chiave può comunicare con chi guida i nostri veicoli! Vediamo se riusciamo a sentirli! Ahoy-oh! A tutte le tirata mobili! Ci vediamo a un luogo segreto appena fuori città! Questo è Sid's Washbuckle! Da questa parte possiamo ancora fuggire! Pensa a rallentarli un po', granchio! Per fortuna ho ancora questa! Presto tornerò! E la prossima volta io mi prenderò tutto quanto! Zuma, fermali! Gancio fuori! Abbiamo perso il veicolo! Ma ci resta ancora la chiave? Dov'è finita la chiave? Grazie, Ryder! Grazie, cuccioli! Non c'è di che! E ricordate, ogni volta che i pirati vengono a saccheggiare, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli! Capitan Turbot si comporta in modo strano, sta correndo per la città sullo skate di Danny X il Temerario! Per questa missione avrò bisogno di... Chase! Userai il tuo veicolo per fermare Capitan Turbot prima che faccia male a se stesso o a qualche passante! Questo caso fa per Chase! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Chase, tu devi trovare... Capitan Turbot? Ryder! Sono sceso dallo skate per un secondo e Capitan Turbot se l'ha portato via! È estremamente strano! Non ti preoccupare, riavrai il tuo skateboard, Danny! Sono Danny X il Temerario! Capitan Turbot, attento! Attento, Capitano! Sto per cadere! Credo che non riesca né a vedere né a sentire! Chase, prova a chiamarlo più forte che puoi! Alzo il volume! Megafono! Capitan Turbot! Chase, sei tu! Uh, prete! Grazie per avermi fatto fermare! Oh! Ehi, ora ci sento! Ma purtroppo ho perso i miei occhiali! Consegna speciale! Ottimo lavoro, Zuma! Capitan Turbot, ecco qui i suoi occhiali! Mille grazie per il vostro aiuto! Ogni volta che perde gli occhiali, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! I motocuccioli sono pronti all'azione, signore! Beh, tranne Chase! Per questo vi ha chiamato! Dobbiamo trovare il nostro compagno! Diamoci da fare! Raider, ti posso aiutare? Certamente, Wildcat! Ci serviranno le tue abilità di centauro per cercarlo tra gli stretti sentieri del canyon! Grazie, Raider! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! State tutti bene? Tu ci hai chiusi qui e tu ci tiri fuori! Lo farei se potessi, ma ho davvero bisogno del resto dei motocuccioli! Ne ho sentito un altro! Sembrava provenire da questa parte! Scavatrice! È Wildcat! Meglio se non ti avvicini! Non voglio farti starnutire ancora! Non è colpa tua, Wildcat! Sarebbo sempre amici! Quei cuccioli si credono tanto bravi! Se costruissi in un aggeggio come questo... Potremmo salvarci da soli e fare un bel po' di guai su due ruote! Chase, tu salva il pilota! Wildcat, tu salva la moto! Ricevuto, Raider! Pilota automatico! Rete! Ottimo lavoro di squadra, voi due! È ora di farti passare questa brutta allergia! Ehi, non hai starnutito! Ho aggiunto un filtro ipoallergenico che impedirà a Chase di starnutire ogni volta che lo indossa! Grazie, Raider! Ogni volta che gli starnuti ti creano problemi, noi siamo a Ciu! Disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Vogliamo che la spiaggia sia bella, pulita e sicura per le tartarughe marine! Arriveranno oggi a deporre le uova! E... fatto! Attenzione, tartarughe marine! La vostra zona per deporre le uova è pronta! È pronta, eh? Ci sono! Sporcheremo tanto questa spiaggia che le tartarughe non si avvicineranno! Così nuoteranno fino a Foggy Bottom! Soltanto una cosa ci può fermare! Rocky! Quel cucciolo raccoglie cartacee più in fretta di quanto noi le gettiamo! Dobbiamo soltanto tenerlo lontano da qui! Oh no! Rifiuti in mare! Non vorrei che le tartarughe ci sbattessero contro! Devo fare qualcosa! Rimorchiatore! Torna subito qui! Ehi! Quella è la mia targhetta! Mi servirà un altro piano! Ho costruito il miglior razzo sparacuccioli del mondo! Evviva il riciclo! Ho trovato anche le mentine! Non sono più buone da mangiare, ma ottime come propellente! Adventure Bay! Sto arrivando! Semaforo verde! Rocky! Come sei arrivato qui? Gattini! Lanciate quella robaccia! Io non penso proprio! Credo che questa sia mia! Ci sono, Ryder! Ho ripreso il rimorchiatore! State pronti! Le tartarughe si dirigono verso la spiaggia! Ottima notizia e ottimo lavoro, Rocky! Sono arrivate le tartarughe! Hip, hip! Shhh! Urra! Guarda gli episodi completi di Pou Patrol su Nickelodeon! Pou Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Carlos e Tracker dicono che uno strano odore sta spingendo gli animali lontano dalle loro tane! E fuggendo così in fretta, una scimmietta è rimasta ferita! Marshall, userai l'attrezzatura di pronto soccorso per curare la scimmietta! E... Skype! Con l'elicottero sorvolerai la zona per capire che cosa causa questo cattivo odore! Bene, al lavoro! Pou Patrol! Abbiamo trovato Carlos e Tracker! Ryder! Marshall! Meno male che siete arrivati! Marshall, dà un'occhiata alla sua zampa! Raggi! La sua zampa non è rotta, scimmietta! Le basterà una fasciatura! Sky, sai dirci da dove proviene questo cattivo odore? Sono sopra la palude! A quanto pare ci sono delle enormi bolle verdi che escono dall'acqua! Delle bolle davvero maleodoranti! Bel lavoro, Sky! Marshall, tu resta qui, noi controlliamo la palude! Quelle bolle sono... piene di gas! A volte, nelle acque delle paludi, le vecchie piante marciscono e si trasformano in gas puzzolenti che risalgono sotto forma di bolle! Sky, usa le pale del tuo elicottero per allontanare da qui le bolle di gas! Ottima idea, Ryder! Non ci sono più bolle qui! Bisogna dire che l'aria è già migliorata! Chase, Marshall, è tutto a posto! Riportate gli animali verso la palude! Ci pensiamo noi, Ryder! Ora possiamo iniziare il nostro safari fotografico! Qui ci sono degli amici che non vedono l'ora di mettersi in posa! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Super Cuccioli, siamo pronti alla superazione, signore! Grazie per essere arrivati subito, Cuccioli! A quanto pare c'è un nuovo cattivo in città! Non sappiamo di chi si tratti, ma sappiamo per certo che ha dei superpoteri! Wow, chiunque sia deve essere superveloce! E superforte! Ed è proprio per questo che avrò bisogno di... Super Rubble! Dovrai usare la tua superforza per raddrizzare quelle rotaie! E Super Rocky, userai i tuoi superattrezzi per rimettere insieme le rotaie il più in fretta che puoi! Bene! Al lavoro, Super Cuccioli! Queste rotaie sono state ridotte proprio male! Niente a cui io non posso rimediare! Hayley Daly sulla scena e sui vostri schermi, in diretta per voi dalla ferrovia di Adventure Bay! Oh oh, il treno è più vicino di quanto pensassi! Rocky, devi piazzare quelle rotaie più in fretta che puoi! Rubble, noi avvisiamo il macchinista! Ricevuto! Fermate il treno! Le rotaie sono rotte! Oh no! Non riuscirò a fermarmi in tempo! Me ne occupo io! Le rotaie sono a posto! Puoi lasciare, Rubble! Grazie, Super Cuccioli! L'avete visto in diretta, gente! I Super Cuccioli hanno salvato il treno! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, Cuccioli! Un forte rumore nella giungla ha spaventato un cucciolo di elefante e suo papà! Dobbiamo agire in fretta e tirare fuori il cucciolo dalle sabbie mobili prima che sprofondi! Per questa missione mi servirà... Rubble! Rubble come un razzo! E Rocky! Semaforo verde, signore! E Chase! Ci pensa a Chase! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Va tutto bene, campione! Sta per arrivare la Paw Patrol! Ponte di pietre in arrivo! Wow! Queste sabbie mobili sono profonde! Proviamo con questo? Ottima idea, Rocky! Se la pietra non funziona, proviamo con il legno! Argano! Oh! Oh! Aziona l'argano, Chase! Oh! Argano! Indietro! Oh! Il veicolo è pesante! Dobbiamo cercare di ancorare il veicolo! Grazie, amico gigante! Rubble, metti quel tronco sotto di lui! Ci penso io a sganciarlo! Fai attenzione, Rocky! Ottimo lavoro, amici! Non c'è di che, papà elefante! Ricordate, ogni volta che sentite uno strano suono, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Winnie Winnington è andato allo stagno in cerca di una rana. E ora il suo furgone, il rimorchio e i poni sono impantanati nel fango! Per questa missione avrò bisogno di... Rubble! Rubble come un razzo! E Chase! Ci pensa Chase! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Ottimo lavoro! Ora riagganciamo il rimorchio, così la signorina Winnington potrà venire alla gara! Sta calma, Felicia! Raggi questa! Guiderò io il mio poni fuori da questa disgustosa fanghiglia! Felicia? Non volevo un trattamento di fangoterapia! Zuma, tu vieni subito alla palude! Arrivo, Ryder! Tuffiamoci dentro! Quel povero poni non resisterà ancora a lungo! No! Dobbiamo fermarlo in qualche modo! Usiamo quei tronchi! Tranquilla, Felicia! Ti costruiamo una zattera! Gran bel salvataggio, Zuma! Grazie, bello! Felicia, sei sana e salva! Vi ringrazio con tutto il cuore! Equip di eroi! No, no! Squadra sorgnona! Cioè... Pau Patrol! Proprio quello che stavo per dire! È stato un piacere! Ogni volta che c'è un poni in fuga, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Pau Patrol su Nickelodeon! Pau Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Wally ha lasciato il mare e sta girovagando per la città! Perché Wally è uscito dall'acqua? Dobbiamo sistemare i guai che ha combinato! Quindi per questa missione mi servirà a... Sky! Userai il tuo elicottero per cercare Wally! E lo terrai d'occhio finché non saremo riusciti a riportarlo in mare! Prendiamo subito il volo! Bene! Al lavoro! Pau Patrol! L'avete trovato, Wally? No! Non pensavo fosse così difficile trovare un trichego! Ryder, ho avvistato Wally! È vicino al canale di scolo! Stiamo arrivando! Che cosa dice, Marshall? Gli manca il suo migliore amico! Non vuole tornare in mare senza Capitan Turbot! Grazie, Marshall! Sky! Marshall! Rocky! Andate a cercare Capitan Turbot! Chase, tu rimani qui e devi il traffico intorno a Wally! Ricevuto! Uh! Connie! L'ho trovato, Ryder! Capitan Turbot è sul ciglio di un burrone! Ben fatto, Sky! Usa l'imbracatura per allontanarlo dal burrone e riportalo in città! D'accordo! Uh! Imbracatura! Uh! Oh! di completi di Pou Patrol su Nickelodeon. Questa bici è un vero portento. La mia bici è in rozzo. È sporita. Sarà meglio chiamare la Pou Patrol. Vi assicuro che andrà tutto bene, Mini Patrol. Almeno spero. Tenetevi forte! Danny X, il temerario, alla riscossa! Attento, Danny! Stai tranquillo, sono Danny X, il temerario! Non intendevo questo! E nemmeno questo. Chase, ferma il carretto con la rete. Oh, rete! Attimo lavoro, Chase! Ora fermiamo Alex. Chiamo altri aiuti. Somma, devi portare il tuo Overcraft in fondo alla discesa. In fretta! Ricevuto forte e chiaro, Ryder! Oh, oh! Il mare ci finirà dentro! Niente paura, piccolino. Me ne occupo io. È un vero spasso! Che forte! Grazie dell'aiuto, Ryder. Non c'è di che, Alex. In ogni occasione, noi siamo a disposizione. Guarda gli episodi completi di Poe Patrol su Nickelodeon. Poe Patrol, siamo pronti all'azione, signore. Grazie per essere qui, cuccioli. Il sindaco Goodway. No! Cicaletta, i Turbot e Danny... Ma Danny X è il temerario! Sono caduti tutti quanti dalla cima della montagna. Sky, tu piloterai l'elicottero estremo e guiderai gli altri cuccioli in questa missione. Sì! Questo cucciolo estremo ha imparato a volare! Bene! Al lavoro, Poe Patrol! Oh! Rocky, usa la pinza per liberare Danny dall'aliante! Rubble, tu ti occuperai di agganciare i Turbot al cavo. Yuhuu! Che felparacadute! Pensa! E vai! Ciao, ragazzi! Prossima fermata, l'elicottero estremo! Yuhuu! Questo è troppo estremo! Grazie! Oh no, aiuto! Il mio canotto si muove! Sky, il canotto del sindaco Goodway sta scivolando! Marshall, Zuma! Dovete far salire il sindaco sulla piattaforma! Sto scivolando! Salva gente! L'ho presa! Ben fatto, cuccioli! Oh! Ma guarda che bei sorrisi! E che panorama meraviglioso! Grazie a Sky e ai nostri cuccioli! Per ogni scalata andata male, noi siamo sempre a disposizione! Guarda gli episodi completi di Poe Patrol su Nickelodeon! Poe Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Il sindaco Hamdinger ha preso il lavacuccio all'immobile! Oh no! E noi lo dobbiamo recuperare! Quindi per questa missione mi servirà... Chase! Ci pensa Chase! E Rocky! Siamo a foro verde, signore! Bene! Al lavoro! Poe Patrol! Resistete, gattini coraggiosi! No! E adesso che succede? È il lavacuccioli mobile di Katie! Devo rallentare quei cuccioli fastidiosi, gattini! Oh oh! I gattini del sindaco volano via! E le cose si mettono anche peggio! Guardate il lavacuccioli! Tutte le bolle rimangono incastrate sotto! Rocky, salva i gattini! Facciamole scoppiare! Devo trovare il pulsante per scendere! Prendilo, Chase! Woo! Rete! No, no, no! 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 Sindaco Hamdinger, tutto bene? Sono ricoperto di fango! E i miei gattini stanno volando via! I miei gattini! Stanno bene! Vede! Finalmente posso tornare al lavoro! Wow! Tutti in città vogliono farsi un bagnetto! Ryder, grazie per avermi aiutata oggi! Non c'è di che, Katie! Ogni volta che ci sono troppe bolle, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Poe Patrol su Nickelodeon! Poe Patrol, siamo pronti all'azione, signore! L'ingresso della serra è bloccato! E ora il sindaco Goodway, Cicaletta e il sindaco Hamdinger sono intrappolati all'interno! Quindi per questa missione mi servirà Rocky! Semaforo verde, signore! E Everest! Ghiaccio o neve, io sono pronta! Bene! Al lavoro! Po-patron! Coraggio, Everest! Per prima cosa libera l'ingresso! È ora di spazzare un po' di neve! Ottimo lavoro, Everest! E adesso possiamo riparare la maniglia! Ci penso io! Fa troppo caldo qui dentro! E se ha così caldo si tolga il cappotto? Accenderò l'aria condizionata! Non credo che sia una buona idea! Ma perché non ti decidi a diventare più freddo? Stia attento, si potrebbe... Rompere! Sì, siamo dentro! Ora facciamo uscire i sindaci! Accidenti! Che succede qui dentro? Po-patron! Tutto bene? Fa così freddo qui! Sì, che cosa è successo qui? Il sindaco Hamdinger ha rotto il termoschermo! E se fa troppo freddo le piante potrebbero morire! Lo dobbiamo aggiustare! Nel frattempo Cicaletta e io andiamo in mezzo alla neve per scaldarci un po'! Wow, il guasto è piuttosto grave! Riuscirai a ripararlo, Rocky? Nessun problema! Wow, cacciavite! L'ho aggiustato! Sistema di climatizzazione attivo! Ben fatto, Rocky! Queste piante torneranno al calduccio in un baleno! Ed è così che dichiaro questa serra... Aperta! Grazie per aver salvato la serra, Po-patrol! Non c'è di che! Ogni volta che la serra si congela, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Po-patrol su Nickelodeon! Po-patrol, siamo pronti all'azione, signore! Dobbiamo andare immediatamente a Barkinburg! Quindi si tratta di... Una mission! Robo Cucciolo, vai in modalità invisibile! Oh, patrolla! Grazie al cielo siete qui! Io sono scomparsa! Il suo ritratto, veramente? Chase, cerca qualche indizio vicino al cavalletto! Ryder, questa macchia gialla sul pavimento odora di... Formaggio! Oui! È l'ingrediente segreto della mia pittura ad asciugatura rapida! Segui quell'odore, Chase! Ah, Sweetie! Ha preso lei il dipinto! Sweetie, dacci il ritratto reale! Non so di cosa stiate parlando! Questo qui è il mio ritratto! Ma l'odore di formaggio della pittura di François proviene da questa tela! Vorrei tanto restare ad annusarlo, ma devo andare! Sweetie non sarebbe fuggita con quel ritratto se non fosse stato quello della principessa reale! Il mio naso dice che è quello! Al lavoro, mission Po! Sweetie, sei stata davvero cattiva a giocare con il mio ritratto reale! Non l'ho preso io, mia principessa! Vedete? Grazie per averlo salvato, Po-Patrol! Non c'è di che! Principe, sai, in ogni occasione noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Po-Patrol su Nickelodeon! Sì, finalmente avrò i poteri che ho sempre desiderato! Sarò il super sindaco più forte del mondo! Super Handinger! No, gattini! Tornate qui! Orasio, il treno che riporta le rarissime tigre bianche nella giungla passerà di qui tra non molto! Guarda! Eccone là! Gattini! 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 Grandi gattini! Yuppie! Gattini! Ci sono degli amichetti per voi! Ah, il mio gattino! Il mio gattino! Il mio gattino! Sindaco Handinger, si fermi! Ora lo prendo con la rete! Devo prendere il gattino! Devo prendere il gattino! Ma cos'è successo? Un burrone! Una tigre! Aiuto! Aiuto! Rete di energia! Super Vortice! Prima io! Prima io! No! Oh! Oh! Oh, mamma! Una tigre volante! Per ogni gatto che viene rapito, noi siamo... Miau! A disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Siete stati bravissimi oggi, cuccioli! Ci divertiremo un mondo alla giornata del cowboy domani! Però il tifo per voi sì! Oh! Oh! Pi, 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 pi! Oh! 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 Sembra che ci sia un problema nel porcine! Oh! Sonnambula! Le sto facendo scappare i maiali! Oh! Aspettino! Oh! Sono bloccato! Sarà meglio chiamare la Paw Patrol! Grazie, Rubble! Come va il piede? Un po' infangato, ma se ne accaverà! Di qua, cuccioli! Rubble, spingi quelle balle di fieno davanti al sindaco! Eccola là! Chase! Si dirige verso Oscar e Cicaletta! Arriva, Ryder! Sky, serve un salvataggio aereo! Dobbiamo riuscire a non farla cadere fino all'arrivo di Sky! Chase, va subito lassù! Scarpe a ventosa! Sindaco Goodway, si fermi! La prego! E' presa! Oh, scusate! Mi sono persa qualcosa! Ho fatto un bel sogno! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! E' successa una cosa strana, la festa brilla nel buio del sindaco Goodway! Gli invitati sono finiti in delle bolle! Adesso aspetta a noi far tornare quelle persone a terra! Dunque, per questa missione mi servirà Chase, la spia! Ci pensa Chase, la super spia! E Marshall! Non aspettavo altro! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Oh, guarda! Il nostro amico alieno! Salve, sindaco Goodway! Ryder, grazie al cielo sei qui! I miei invitati fluttuano in aria! Come faccio a servire il punch? Io vado a prendere Alex! Scala! Cannone ad acqua! Guardate, ci sono Katie e Kali! Ci penso io! Scarpia ventosa! Cavo! Resisti Katie, ora vi porto giù! Ehi, aspetta, fermo! Siamo noi, i tuoi amici! Non aver paura, sembriamo diversi perché indossiamo i costumi per la festa brilla nel buio! Bebe! Bella festa, sindaco Goodway! Grazie, Paw Patrol, per aver salvato la festa e tutti gli invitati! Non c'è di che! Ogni volta che un invitato fluttua via, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Super Cuccioli, siamo pronti alla superazione, signore! Grazie per la velocità, Cuccioli! Questa sarà una missione davvero strana! Per qualche ragione, Copiccat ha usato i suoi superpoteri per trasportare la Flander in cima al vulcano sull'isola! Aiuto! Che strano! Servirà l'aiuto di tutti i supercuccioli! Bene! Al lavoro, supercuccioli! Oh! Accidenti! C'è un bel lago di lava là sotto! Eccolo, Cuccioli! Tenga duro, Capitan Turbot! Cuccioli, salite tutti sulla Flander! Useremo il nostro peso per inclinare la barca dall'altro lato e così scivolerà giù dal vulcano! Sta funzionando! Tenete duro, Cuccioli! Pronti a una discesa rapida! Oh! La mia barca funziona sia in mare che in montagna, grazie a supercuccioli! Yee-haw! Sì! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Il mio piano funziona alla perfezione! Attenzione, cari cittadini di Adventure Bay! Dentro alla supercupola di energia, posso fare tutto quello che voglio! E nessuno può entrare o uscire! Qui serve la pompa, Troll! Cuccioli, Copycat si trova in cima alla cupola! È ora di attivare la modalità volo! Non lo vedo da nessuna parte, Ryder! Scommetto che è tornato dentro! Deve esserci una porta nascosta da qualche parte! Ha trovato un punto di ingresso, Ryder, vicino al porto! Zuma, Marshall, è giunta l'ora di ricaricarsi! Sono all'interno della cupola, Ryder! Ho individuato Copycat! Non per molto! Mi sto attaccato alla coda! È ora di fare un'uscita di classe! Eccolo lì! Ed ecco la porta! È il momento di caricarsi! Super forza, tempo di rock! Siete stati fantastici! Non vi ringrazierò mai abbastanza per averci liberati da quel terribile Copycat! Ogni volta che siete intrappolati sotto una cupola gigante, noi siamo a disposizione! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon! Vi presento la nostra nuova mucca! Oh, che picchia! Questa non è una mucca da latte, è una mucca marina! Un lamantino! La chiamerò Mindy! Sì, Mindy Lamantino! È carina, ma una fattoria non è adatta per un lamantino! A lei serve un posto dove poter nuotare in libertà! I lamantini vivono nelle paludi! Prima la portiamo lì, meglio è! La palude è dall'altra parte di questa collina! Oh no! Il rimorchio! Rabbon, costruisci una barriera per fermare il rimorchio! Subito, Raider! Attenzione! Mindy è sana e salva! Oh oh, c'è una crepa sul vetro! È meglio portarla alla palude il più in fretta possibile! Mindy, sei a casa? Siamo arrivati giusto in tempo! Avviciniamo il furgone all'acqua e facciamola scivolare! Raider, potrebbe essere più difficile del previsto! Skye, vieni alla palude! Dobbiamo sollevare un lamantino! Prendiamo subito il volo! Si agita un po' troppo, Raider! Chase, devi tenere Mindy lontana da quei coccodrilli! Lascia fare a me, Raider! Rete! È l'ora!